Andiamo! Ottimo, devi soltanto saltare in verticale, lascia stare la rete. Marco sei sotto la palla con le braccia bassi, molto meglio Paolo. Troppo da entrare in corsa, è solo braccio. Bravissimo Andre che non hai guardato la palla, apri la mano e fai il gesto. Sì, se è tecnico non solo con la spalla di primale, godo. Il braccio si lascia. È perfetto Alberto, carica velocemente il braccio. E se non guardi la palla puoi caricare comunque il braccio. Marco non ci deve entrare col mento. Ancora, troppo lento il caricamento. La velocità della ricorda è giusta, ma è in cagliato a tapparlo. La velocità della ricorda è scoperta. decreto. L....... Se è debba dare il viso non ti sarà tornato, no. Questa è attraversa per uno! Guarda l'istrata parte del campo. Vai fuori! Sì, è un'alentatore, non vuole. Fermate, fermate fisicamente. Salta il verticale che si non è. In anticipo, guardano solo Foroni. Aspetta, parti, rapido. Non è l'alentatore con i passetti da piano. Sinistro esclusivo. Sinistro esclusivo, non destro lungo. Sinistro è giusto, il braccio è ben pronto, Matteo. Sinistro è il passo più corto di tre, Matteo, va bene. Non si riceve di braccia. Ancora, stai caricando il braccio quando sei già in volo. Non attacchi il pallone. Velocità è eccelsa, il braccio finisce qua. Quindi già ti porta l'attacco. Salta in verticale, signore. Verticale, signore. Non in anticipo, verticale. Aspetta, Paolo, sei solo in anticipo qua. Non guardarlo. Concenti sulla ricorsa. Non guardarlo. Concenti sulla ricorsa. Stopp!